Ok, 24 Ma guarda, è veramente una cosa bellissima per la squadra di casa e se giochi introsperta sei davanti a questo muro che canta tutti insieme la stessa canzone e rimani sempre con la bocca aperta E ci sono tante defezioni per i padroni in casa che proveranno a colmare con la gioia dei propri tifosi che stanno intonendo al massimo delle loro capacità e non abbiamo il calone Sentite questo spettacolo che è un'era assolutamente incredibile Allora Luca, il Barcellona è che stare attento a questa atmosfera e poi l'assenza probabilmente di Messi si farà sentire Ma insomma guarda, ho appena visto Ronaldinho, è sempre un grandissimo giocatore, adesso vi è tornato al Barcellona Ma sentite qua, veramente, è uno stadio che ti porta avanti, hanno veramente 12 uomini in campo e il dodicesimo fa veramente paura Io sono stato nello stadio di Londra poco tempo fa e vorrei essere a Manchester un atmosfera così, non l'avevo mai vista E' una cosa incredibile, speriamo che questa cultura possa essere sportata anche in Italia anche se è difficile Sarebbe veramente un sogno ma in Italia è una cosa che non so se si potrà mai fare per i problemi che tutti sappiamo E ora vorrei ricordare comunque anche in Egitto i problemi gravissimi che ci sono stati Allora chiudiamo qui Chiudiamo qui il collegamento e iniziamo la partita vera e propria E facendo una del via d'incontro